Mi sono avvicinato, ho visto un signore a terra, quindi una ragazza che gridava e questo signore qui è verso la pompa di benzina che è accasciata a terra. Una suonata di claxon di troppo. E' bastato questo, un 19enne di Pescara, per picchiare a morte un 56enne. Tiziano Paolucci, originario di Tollo, era in macchina con la moglie in viale della pineta Pescara quando una reneghe bianca li si è parata davanti con l'intento di parcheggiare. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, appena diplomato, aveva ingranato la retromarcia quando Paolucci ha suonato il claxon, forse per segnalare la sua presenza. Poi la furia. Il 19enne è uscito dall'auto e ha iniziato a inveire contro il tollese finché il diverbio, quasi immediatamente, è degenerato in rissa. Dopo uno scambio di pugni che ha lasciato attonito chi passava di lì, il 56enne si è rimesso alla guida per poi accostare pochi metri dopo, scendere dall'autovettura e accasciarsi a terra. Inutili i tentativi di reanimarlo, mentre il 19enne si era già allontanato con la sua automobile. Sarappo è rintracciato a casa sua dai carabinieri. Adesso si attende l'autopsia per accertare le cause del decesso. La vittima, il suo contrapposto, si era sentito male. Lui non se ne è reso conto. Una volta che era finita la discussione ed erano finite ad azzuffarsi, lui si è serenamente allontanato. I carabinieri, dopo che l'hanno rintracciato sotto casa, l'hanno informato che il soggetto era deceduto perché lui non sapeva neanche che era cascato a terra con l'infarto. C'è qualcosa che può dirci di quello che l'ha detto il ragazzo? È sotto shock. Il ragazzo ha concluso il suo interrogatorio dicendo alla dottoressa Tommolini che lui non riesce a farsi capace, non riesce a credere che possa succedere una tragedia di queste dimensioni. Sembra per lui una cosa irreale perché tutto avrebbe voluto tranne che poter cagionare una cosa così grave.